Ciao ragazzi, buongiorno! Non ho mai aspettato un pacco con così tanta impazienza come questo e non vedevo l'ora di farvelo vedere. In questo pacco ci sono quattro prodotti dell'azienda con cui ho scelto di diventare incaricata, quindi oggi vi mostro i primi quattro prodotti poi con il tempo ve ne mostrerò anche altri. Io ancora non li conosco perché comunque non li ho mai provati, però mi sono informata tantissimo prima di prendere una decisione di questo tipo e ho controllato benissimo le recensioni delle persone che hanno già utilizzato questi prodotti, ho controllato benissimo gli ingredienti che per me sono super importanti e ovviamente la qualità del prodotto, fino ad arrivare alla conclusione che i prodotti dell'azienda che ho scelto hanno il miglior rapporto qualità prezzo, quindi per quanto riguarda la scelta ho scelto i prodotti migliori, non avrei potuto far diversamente. Quindi per oggi ve ne presento solo quattro, gli diamo un'occhiata veloce perché comunque ancora non li conosco molto bene e poi pian piano ve li presento singolarmente uno alla volta e poi ovviamente ne proveremo anche di nuovi. Come sempre io prima li proverò, li testerò e poi vi farò sapere come mi trovo, sarò completamente oggettiva sulla mia opinione, sarò trasparente come sempre, come ho fatto fino ad ora, completamente sincera e non farò nessuna preferenza. Quindi quello che vi dirò sarà esattamente quello che penso, se c'è una cosa che mi piace ve la dico, se c'è una cosa che non mi piace ve la dirò lo stesso perché voglio rimanere insomma comunque sempre onesta, sincera e trasparente, non cambierà nulla sotto questo punto di vista, sempre io rimango. Dunque andiamo a vedere il pacco, è la prima volta che ne ricevo uno e vi posso già dire che mi sono completamente innamorata della scatola, con questa scatola ho già almeno tre idee fai da te per riutilizzarla, lo so ho un problema, ma questo qua casomai lo faremo in altri video, non in quello di oggi. Apriamo e vediamo che cosa c'è dentro, lo apro con voi per la prima volta anche io eh, ho solo... si apre! Io ho tagliato gli scotch, ecco, e basta e non l'ho ancora aperta, quindi adesso vediamo cosa c'è, io la guardo da lì eh. Tada! Allora, queste sono le cose che ci sono dentro, qua sotto, mmm che profumo, immagino che ce ne siano delle altre e di qua nascosto, vabbè c'è un altro, in quattro sono in tutto, l'appoggio così vado meglio eh. Allora, incominciamo a rimuovere la carta protettiva, sono molto contenta che ci sia della carta riciclata all'interno e non altri materiali. E poi ci sono i prodotti, mamma mia non mi sembra vero. Allora, cominciamo con la prima bustina, questo è un integratore alimentare, leggo perché non mi ricordo ancora le cose, comunque supporta l'equilibrio ossidativo e il sistema immunitario dell'organismo, contiene una miscela di carbone attivo, alga e superfood, contiene vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, nonché selenio e vitamina A che favoriscono il normale funzionamento del sistema immunitario. Supporta l'equilibrio ossidativo, formulato per fornire al corpo vitamine essenziali, come la vitamina E che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, la vitamina A che favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario, e il selenio, il minerale che svolge un ruolo chiave nel normale funzionamento della tiroide. quindi molto molto interessante. Questo qui da quello che ho capito praticamente mi serve per depurarmi completamente il corpo, per eliminare tutte le sostanze nocive dal corpo praticamente. Poi, altro bustone, questo è enorme e davvero pesante, c'è una quantità di polvere infinita. Questa è una miscela naturale di proteine vegetali altamente digeribili che contiene tutti e nove gli amminoacidi essenziali. Grazie agli enzimi E di H, questo delizioso shake carico di nutrienti al sapore di vaniglia, fornisce il pieno di fibre e 12 vitamine e minerali diversi. Quindi questo praticamente è un integratore alimentare a base di proteine vegetali. Questo prodotto sostiene la digestione, è ricco di nutrienti ma è a basso contenuto calorico, è un integratore vegetale che viene utilizzato sotto forma di shake, contiene 15 vitamine e minerali essenziali, proteine vegetali di alta qualità, enzimi naturali e il 25% della dose giornaliera raccomandata di fibre. Non ha aromi, coloranti artificiali, latticini e soia, senza UGM, basso indice glicemico, senza glutine, 100% vegano. Quindi come vi dicevo ho scelto prodotti che secondo me sono il top dei top. Anche questo è un integratore alimentare, questa volta è in capsule che contengono vitamina C e estratto di semi d'uva. Anche queste aiutano il sistema immunitario, favorisce la formazione di collagene per la salute della pelle e praticamente serve per avere una pelle bella, quindi ottime per l'estate. Questo è l'ultimo prodotto che in realtà all'interno ne contiene due, sono contenuti all'interno di questa box e dentro ci sono appunto queste due boccettine qui, una che va utilizzata per il giorno e una per la notte, che hanno benefici diversi ma che utilizzate insieme, sono una combo perfetta. Sono due vasetti che contengono un liquido che poi va comunque somministrato in gocce, ha anche la pipetta all'interno con il contagocce e questi prodotti hanno diverse funzioni. Sono un prodotto completamente naturale che aiuta a velocizzare il metabolismo basale che è praticamente quello che lavora anche quando siamo a riposo. Aiutano a rallentare l'assorbimento dei carboidrati, aiutano a controllare i livelli di cortisolo nell'organismo, il cortisolo è quello che viene più comunemente chiamato come ormone dello stress, che è quello che praticamente ti blocca la perdita di peso, aiutano a ridurre gli attacchi di fame nervosa, quindi molto 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 utile anche su questo punto di vista. Le gocce night hanno anche la funzione di aiutare a ripolire l'organismo durante il riposo notturno. Ovviamente anche questi sono formulati con una miscela di ingredienti naturali, tra cui il fagiolo bianco che aiuta a lavorare sulla circonferenza addominale e l'estrato di bacche di caffè che aiutano con il metabolismo, quindi anche queste super ottime con l'arrivo dell'estate. Dunque questi sono tutti i prodotti che ho acquistato per quest'ordine qui, poi più avanti ne acquisterò degli altri perché voglio provarli tutti. Quello che inizierò ad utilizzare per primo è questo perché appunto lo utilizzerò un 10-15 giorni per depurare completamente il mio organismo e prepararlo all'utilizzo di quest'altro prodotto qui che sono appunto le gocce, queste qui le inizierò invece appena finito il trattamento con questo prodotto qui. Stesso giorno in cui praticamente altre persone inizieranno questo programma con me, quindi lo faremo tutti assieme, se volete potete farlo anche voi, come sempre per quanto riguarda le informazioni potete scrivermi sotto nei commenti oppure su Instagram o contattarmi direttamente nel modo che preferite. E niente, con questo è tutto, io sono davvero super super felice e entusiasta di mostrarvi questi primi prodotti, io non vedo l'ora di provarli e non vedo l'ora di raccontarvi la mia esperienza con questi prodotti. Con questo è tutto, ora tocca a voi, aspetto tutti i vostri commenti, le vostre idee, le vostre opinioni, i vostri pensieri sotto nei commenti, non abbiate paura di scrivermi niente. Con questo è tutto, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, condividete questo video anche con le altre persone perché sicuramente tornerà utile a qualcuno che è interessato a questi prodotti e niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!